Arezzo protagonista il 9 ottobre grazie al borgo di Rondine, cittadella della pace scelto dalla senatrice a vita Liliana Segre come luogo della sua ultima testimonianza pubblica. Grazie a Liliana è il titolo dell'evento rivolto alle scuole italiane e ai giovani del mondo che sarà trasmesso in diretta su Rai 3. La giornata si aprirà con l'inaugurazione dell'arena di Janine, lo spazio intitolato alla giovane amica che la Segre non salutò prima che venisse condotta nella Camera Gas di Auschwitz. La senatrice a vita consegnerà poi idealmente il testimone della difesa della memoria ai giovani di Rondine. Quella di venerdì sarà una giornata che vedrà anche un'importante presenza delle istituzioni, dal Presidente del Consiglio, la Presidente del Senato, il Presidente della Camera che porteranno i saluti istituzionali e un'ampia rappresentanza del Consiglio dei Ministri. Luigi Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri, Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione. Presente anche il Cardinale Guardiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Tra gli interventi anche quello di Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, Vice Direttore dell'UNESCO con Delega all'Educazione, Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La zona interessata dall'evento fin dalla frazione di Ponte Buriano sarà letteralmente blindata con un impiego importante di forze dell'ordine e probabili divieti di accesso in alcune parti della viabilità.